La tentazione di De Rossi l'ha avuta fortissima, forse anche qualcosa in più fino a qualche tempo fa poi le cose si sono un attimo raffreddate anche perché poi ci sarebbe da fare tutto il discorso sugli allenatori perché va bene adesso c'è Carlo Ancelotti ma poi probabilmente, poi sicuramente ci sarà Mourinho da giugno e allora magari perde Rossi se proprio vorrà andare via Scusami, non c'entra niente però a me è un... La tentazione delle panchine con queste due possibilità al momento, più Real Madrid che Arsenal Dicevamo quindi De Rossi magari aspetta anche di vedere chi allenerà cosa, chi allenerà dove De Rossi è uno che se decide di partire non ha un pretendente, non ne ha due ma ne ha tre, quattro, cinque tutti quelli se lo possono permettere perché De Rossi è ancora il vero De Rossi quello che può cambiare le partite, può cambiare le cose in campo e nello spogliatoio Ecco